In Iran si è svolto il secondo turno delle politiche per eleggere 68 deputati del Parlamento, che ne conta 290. Sono stati chiamati a votare 17 milioni di eventi diritto. La prossima assemblea potrebbe essere formata soprattutto da riformatori e moderati filorohani. Con il primo turno del 26 febbraio sono stati eletti 221 deputati, divisi quasi equamente a metà fra conservatori, che disponevano della maggioranza schiacciante, e riformatori e moderati. Cifre approssimative perché in Iran non esistono affiliazioni partitiche rigide. Elezioni considerate una sorta di referendum sulla politica di apertura del presidente Rohani, oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul nucleare del quale gli iraniani aspettano le ricadute economiche. Sabato probabilmente i risultati del voto.